Buon pomeriggio, tra poco in onda la prima puntata di Porta a Porto, programma di intrattenimento politico. Avremo oggi due ospiti, due persone che non sono sanmaritane, sono stranieri e vi faremo una breve intervista sulle prossime elezioni sanmaritane del maggio 2016. A più tardi! Buonasera, i nostri ospiti si accomodi. Andate buttate la porta. Sì. Facciamo la porta. Andate vicino all'uno. E... 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 Guardatevi. Guardatevi qui.